Allora cari ragazzi, io sono Severino Cicierchi ad Etolosco Regione. Questa qua invece è la Maria Rosa, ve la ricordate nel film Il ragazzo di campagna? Eccola qui, eccola qui. Si è sposata, ha due figli, però si ricorda sempre qui. Come ti ricordi il film? Bellissimo. Bellissimo. Bisogna invitare a rivedere il film in DVD. Che cosa si dice? Guardate il film in DVD. E vistelo, vistelo tutti. Ciao. Ciao.